Oggi la presentazione qui al Tribunale della seconda edizione del premio Dodò Gabriele per portare nel mondo della scuola la legalità. L'impegno anche della Presidenza del Tribunale e dei magistrati è tanto. Sì, è una bellissima iniziativa che viene ripetuta quest'anno e che vede coinvolti gli avvocati, il personale, il sindacato e soprattutto i colleghi che si sono offerti di fare questo giro di interventi nelle scuole per parlare con i ragazzi, per spiegare loro quello che è effettivamente il valore della legalità, soprattutto in un territorio come quello del circondario di Crotone che purtroppo è caratterizzato dalla presenza di organizzazioni criminali che hanno fatto e fanno tante vittime anche innocenti. Quindi è importante che ai ragazzi si spieghi che l'andrangheta non è soltanto un'entità che loro sentono in televisione, che vedono nei film, che riguarda gli scontri di vertice, i traffici illeciti. L'andrangheta è una cosa che ci condiziona la vita quotidiana e quindi anche il fatto che un bambino si trovi coinvolto in un grave episodio come quello che ha riguardato appunto il povero Domenico Gabriele durante una partita di calcetto, in un'occasione che normalmente i ragazzi vivono nella loro vita quotidiana. Questo deve far pensare che l'andrangheta ci condiziona l'esistenza a tutti i livelli e che quindi nessuno di noi è immune dal rischio di essere vittima dell'andrangheta. Ecco, l'educazione alla legalità che vuole promuovere l'iniziativa di oggi tende proprio a questo, a sensibilizzare l'opinione pubblica e i giovani in particolare su quelli che sono tra virgolette gli effetti collaterali della criminalità organizzata, quegli effetti che non riguardano le dinamiche malavitose ma riguardano la vita di tutti i giorni e le persone cosiddette normali che fanno una vita normale. Educare i giovani alla legalità è un impegno importante ma serve anche coinvolgere le famiglie? Ebbè certo, ma secondo me se si parte dai giovani poi la mentalità, diciamo, questo tipo di educazione viene estesa anche all'incontesto familiare ma è meglio partire dai giovani che dalle persone più grandi, adulte, perché le persone adulte purtroppo sono anche un po' impermeabilizzate avendo vissuto in questo tipo di contesto. Quindi partendo dai giovani c'è la speranza che si possa fare breccia anche nell'animo dei grandi e quindi far capire anche a loro che bisogna prendere le distanze da certi fenomeni.